Olevano sul Tusciano, ancora una volta protagonista per i progetti inerenti ai giovani. Infatti in programma per domani sera, a partire dalle ore 20 presso il Pala Tusciano, l'evento finale del progetto Il Bello di Olevano si racconta, finanziato dalla Regione Campania ed ottenuto dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Inforum dei Giovani. Alla conferenza, con la finalità di esporre i risultati ottenuti, ma anche per spiegare le iniziative per il prossimo futuro, prenderanno parte il primo cittadino di Olevano sul Tusciano, Michele Volzone, l'assessore alle politiche giovanili Davide Zecca, il coordinatore del Forum dei Giovani Cosmo Nicolino e il consigliere regionale del Partito Socialista Italiano Andrea Volpe. L'evento sarà moderato da Sara Di Matteo. L'assessore alle politiche giovanili Davide Zecca, che ha sempre creduto e sostenuto con forza questi progetti per i giovani, in un post su Facebook, rende noto che ci sarà un evento nell'evento. Come ha postato Zecca, sottolinea. Ma non è tutto, la conferenza sarà seguita da ore di piacevole musica a bordo piscina con gli ospiti Giampiero XP e DJ Gigi Squillante. L'ingresso alla struttura sarà limitato e regolato nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19. Insomma, anche un modo per far divertire in maniera del tutto sicura i tanti giovani che sono stati costretti da oltre un anno e mezzo a dover vivere con chiusure e limitazioni della libertà personale prima dell'arrivo del vaccino e finalmente di uno spiraglio concreto per tornare alla vita di prima.